Benvenuti al centro di notizie e gossip. Prima di entrare nelle novità del giorno, un mi piace e la vostra iscrizione al canale sono per noi segni immensi di apprezzamento. Grazie di cuore. Ora, lascia che ti racconti la romantica saga di Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore, un amore talmente intenso da sembrare estratto direttamente dalle pagine di una fiaba. Questa coppia ha iniziato a scrivere la propria storia più di un decennio e mezzo fa, sotto le luci scintillanti di una discoteca nel cuore di Milano. Elisabetta, allora una giovane donna di 24 anni, incrociò per la prima volta lo sguardo di Flavio. Non passò molto tempo prima che decidessero di incontrarsi nuovamente, stavolta nella storica cornice di Roma. Da quel momento in poi, la loro vita ha preso una direzione comune, senza mai deviare. Il legame che si è formato tra loro ha dimostrato una forza inaudita, portandoli a pronunciare il fatidico Essie nel 2008. Questa unione si è poi rafforzata con l'arrivo del loro primo bambino, Nathan Falco, cinque anni dopo. La vita, però, a volte prende strade inaspettate, e nel 2017 hanno deciso di separarsi. Nonostante la fine della loro relazione sentimentale, Elisabetta e Flavio hanno saputo conservare un rapporto basato sul rispetto e l'affetto, condividendo insieme momenti preziosi in famiglia. Più recentemente, la coppia è tornata sotto i riflettori per via di una foto che Elisabetta ha condiviso sui social. Nell'immagine, lei pianta un tenero bacio sulla guancia di Flavio, in un momento familiare intimo e speciale, il figlio Nathan che sta per soffiare sulle candeline per il suo quattordicesimo compleanno.